E' nel 1965 la governante di Casa Rubotto, Maria Illuminati, ancora mi fa emozionare, tornando a casa io volevo fare la scarpetta, prendo il pezzo di pane e vado a inzuppare nel pentolino là dove pippettava il super pomodoro e mi disse no, no, non al centro del pentolino, devi andare là sui bordi, là dove si caramelizza il pomodoro divento più buono, più dolce. Feci questo gesto, assaggiare e ho capito, il sapore va creato, riconosciuto e mangiato. Questo è il segreto del mangiare, sapere creare il sapore e poi andarlo a prendere.